eh si netto per l'autavera adesso mi ricordo grazie un po' Grazie a tutti eri sempre in tensione dicevamo impegnativa ecco impegnativa sentivi sempre tutto buono ma io si ma pietre ce n'era una sulla sinistra no proprio niente la mia cernia è per la nostra famiglia per niente di sora ma che colore che c'è nel sole i freni è che è sporco massiccio massiccio oro zucchino 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 oro zucchino adesso è super è potente no spress no spress è la cafetiera sale in spress Grazie.